False certificazioni, finte revisioni alle auto e false attestazioni. Con queste accuse è stato arrestato e trasferito ai domiciliari su ordine del GIP del Tribunale di Santa Maria Capovetere l'imprenditore Andrea Fiscone, 57 anni, di Marcianise. Grazie ad un sistema fraudolento, secondo gli inquirenti, avrebbe rilasciato per anni decine di false certificazioni relative alla revisione di autoveicoli, praticando un prezzo inferiore a quello della concorrenza, fino a diventare titolare nel casertano quasi in regime di monopolio di sei centri di revisione. L'accusa con la quale è stato arrestato è falso ideologico. Tempo fa, dal suo sistema di certificazione, si occupò anche striscia alla notizia. Nell'ambito dell'inchiesta, alla quale hanno collaborato anche i tecnici della motorizzazione civile di Caserta, risultano indagate altre 72 persone, tutti automobilisti, che hanno usufruito delle certificazioni del 57enne. Sono almeno 105 le false attestazioni contestate all'imprenditore e dalla procura di Santa Maria Capovetere, che ha passato al setaccio tra il 2011 e il 2013 migliaia di pratiche di revisione, scoprendo che oltre 1000 erano irregolari e un 10% violavano il codice penale. Le indagini sono state eseguite dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della procura, che hanno filmato Fiscone a lavoro in uno dei suoi centri di revisione.